Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Filippo Turetta, estradato dalla Germania all'Italia, si trova rinchiuso nel penitenziario Montorio di Verona, in attesa di una sentenza per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Avvenuto l'11 novembre. Turetta, ex fidanzato della vittima, è al centro di una situazione tesa e carica di suspense all'interno del carcere. Secondo una notizia diffusa dal Gazzettino, Turetta è in procinto di essere trasferito dalla sezione infermeria alla terza sezione, molto sovraffollata. La difficoltà principale risiede nel trovare un nuovo compagno di cella per lui, dato che tutti sono a conoscenza del suo crimine. Nel carcere, dove vigono regole non scritte ma tassative, che proteggono donne e bambini, Turetta vive in un clima di costante incertezza e timore di possibili ripercussioni da parte degli altri detenuti. E tu cosa ne pensi di questa triste vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.